Io non posso neanche smuttare Posso rimandarla un attimo? Ah ok, adesso l'ho sentita Buongiorno, buongiorno Ah tra l'altro adesso compare se è rimandata Viene scritto replayed Vorrei vederla, sì Ma hai provato proprio a chiudere la finestra L'ho anche cancellata, l'hai rimessa Aspetta, provo a chiudere, chiudere OBS La rimetto, aspetta Si chiudi, la chiudi OBS Si, poi apri e rimetti Ciao belli Prova a sapere, aspetta eh Ti do il link C'è in teoria se tu Mi carica tutto tranne quello Se tu vai in questo link Te lo metto qui Discord Naturalmente devi accedere Credo con Twitch Dovresti poterla Vedere Schermata bianca Pure lì Dal mare piogge grandi Ne prese ieri Ma grandinato Non ho visto che è grandinato Schermata bianca pure lì Ma scusa Non lo so Valle ragazzi Io ho un'ansia Adesso che devo andare al mare Sono ieri in Franci Che ci stiamo prendendo per mano E preghiamo Ieri c'era una piccola macchietta Che è passata qui da me Proprio Che è venuta dal mare Però È come se non mi andasse più Stream element C'è proprio Schermata bianca Ma hai chiuso Di cookie O di DNS O robe del genere È come di Tolgo Non ho idea O di DNS di Google Tu li hai messi? Non so Non è cambiato nulla Rispetto a due giorni fa Ma magari hanno cambiato qualcosa loro Non lo so Io non sceglio neanche I DNS di Google Per adesso Mi pare Comunque sì Si è passata questa piccola macchietta Di temporale Ieri Ma non è durata tanto Però ha tuonato un sacco Che palle Non mi pareva Cioè ho guardato lì nel cazzillo Quello Che guarda gli Ezzer E Non mi pareva Ci fosse stata grandine Il colore era 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 quasi alla grandine Il colore Poi non è detto Può essere anche sul giallo Ma può essere anche grande No è che il punto Che sto vedendo Che ogni giorno cambia Però Verso il mare Non dove Cioè Ha fatto i temporali grossi Ma non Pensavo avesse fatto grandine C'è clear cash E no cookie Clearo tutto il mondo Eh prova Sì ma io sto vedendo Adesso c'è senatico O pioggia tutti i giorni O pioggia tutti i giorni Tranne sabato e domenica E sabato arrivo E domenica Sì sabato e domenica Sono i giorni più di merda Tra l'altro Che più di gente Ma sì ma poi si mettono In realtà qua Va bene pioggia Eh no perché dice 25-28 gradi La pioggia dalle 11 di mattina E nubi sparse alle 2 La mattina qui è freschino eh Cioè non è troppo da mare Oggi per dire Ma tu questo Dov'è che sei Proprio Si sa che per leggere bene Le previsioni Hai bisogno di due lari Ma in realtà Quel cosino lì È molto Facile da leggere Cioè Qua a treviso Ci sono 18 gradi Eh qua no Però Sono 24 adesso Segna qui il computer Ma secondo me No 24 ci può stare In realtà Sono molto triste E' bello oscillato E contento Proprio felice No abbiamo Lenzuolino C'è stava Lenzuolino Lì ti dico Vabbè che io Non conto Oh madonna Lieser Madonna Che ho fatto Oddio E' cancellato La che esce tutto Ti ha tolto Tutte le impostazioni Dai siti Eh Sì Eeeh Dove sono I lidi di comacchio Eh Dovrebbe essere a posto Norco Giuda Eh devi sistemarti Il game Però Prima di essere a posto I lidi di comacchio Si trovano Non sto trovando Sì Sono qua Perché non me lo dice? Sono a Nella palude Sì l'avevo detto Che era vicino a Vale Però E Marti Una merda Se piove Quando andrò al mare Una merda Guarda Mi sparo E mi trovate L'anno prossimo Forse Se mi ripiglio Dallo sparo Grazie Enrico Grazie Enrico Mentina Buongiornone Pisellone Ma che scrive Questo pazzo Alla fine Ognuno si sceglie Il proprio ragazzo Vero Mary? Eh sì È messo dal lunedì Temporaloni proprio Ma comunque Che cazzo Vabbè Tocca ripiegare Su Una Spamar Mi sa Eh Ne ho già pagato Sì Ci sono Temporali Tutti i giorni Cioè Forse Non piove Il martedì Sto vedendo Ma disconnesso V Martedì Martedì Uno Non piove Tutti gli altri giorni Becchiamo pioggia Secondo Però ieri era tutto diverso Vedi che ogni giorno cambia Io adesso sto confidando solo in questo Che tutti i giorni Cambia È tutta una cosa diversa E via Penso che mi è sempre in peggio Però perché Un disastro Eh perché ieri non era così disastrato Era un paio di giorni Che tra l'altro non era neanche sicuro Vabbè Marti Se vai in Islanda Forse un po' te lo aspetti anche Il fatto è quello Sì io voglio andare al mare Perché fa caldo Voglio tuffarmi in acqua Se vado al mare C'ho 20 gradi Mi giano le palle Sinceramente Eh ma non mi Ti ripeto Mary lo dicevo ieri in live Non mi rilasso Perché vado al mare In una stanza 4x4 Che ho pagato un sacco di soldi Me ne stavo a casa mia A leggere i fumetti A sto punto Cioè È veramente È una roba Che ti fa solo incazzare Cioè a dire che per la settimana prossima È più probabile che cambino Ma infatti Confido che ogni giorno Visto che sta cambiando Ormai Boh Prego la madonna E vediamo che succede Ma direi di dare il via Eh Alla Sigla Del Termogiornale E benvenuti qua Nel simpatico Mondo Della Televisione Sì 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 Non credo Siamo troppo simpatico Per tante cose Comunque Secondo me Il mondo Da televisione Però La segna stonca Eccola No Vabbè No Non credo Dipende Allora abbiamo Io no C'ho quelle di ieri Spesso Dovevo cercare Lo stop Al cockpit Abbiamo bambino Che ormai è il nostro Gran mattatore Come sapete Che mette Youtuber finge di dormire Durante l'Allstar Game WNBA Quello delle donne E viene bannato Da tutti gli eventi NBA Bene così Godo Godo Un po' per malosi però eh No 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 Godo Poi 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 abbiamo Chiama cameriere Un assistente di volo E scoppia la rissa Eh madonna Oh no Per maloso eh Grazie Coldmas Questo si Questo un pochino si Dai E quante ce ne sono oggi Oggi ce ne sono E ce ne sono oggi Quante ce ne sono Allora Adesso le leggiamo Piano piano Poi Sposa Non vuole i bambini Al matrimonio Dopo aver Avuto un aborto Dobbiamo divertirci Scoppia la lita in famiglia Non Capisco il senso Cioè Ha bandito tutti i bambini Dal suo matrimonio Perché lei ha abortito Una PTSD E gli è diventata Una fobia Dei bambini Bestiale proprio Ti ho capito ma Ma che poi Cioè Come quella Dell'altro giorno Della Sposa Che non voleva I figli Del Dello sposo Al matrimonio Come era Non mi ricordo Tra l'altro Il fratello Gli ha detto Guarda Le tue nipoti Sarebbero anche felici Di farti da dammi gel Eccetera eccetera Gli compro il vestito Eccetera Lei ha risposto Se non riesci a rinunciare Alle tue figlie Per qualche ora Non meriti di venire Al mio matrimonio Ma perché Secondo quale logica Testa di cazzo di merda Le regole sono chiare Ha detto Vabbè Stai da sola Sposati da sola Vabbè Sposati da sola Poi Litiga con i genitori Ragazzo di 15 anni Scava una bucca In un giardino E la trasforma In una casa C'è anche il wifi Cioè Quella sedia È veramente La sedia più Da nonne Che ci possono essere La sedia da Da Bin Laden Quella lì Da Da rifugio Ma io sono sicuro Di averci visto La mia bisnonna Lauretta Che ci cuciva Lì sopra È un indiano Che costruisce Le piscine Lui Comunque Cioè Sì ma io avrei Augurissima Che mi casca Tutto in testa Però Ma no È un ingegnere I'm an engineer Trust me Certo Certo Eh Turisti Aggrediti Dalle vacche Incornati Che Che provano A mungerle E se alla fine Il problema Degli allevatori Non fossero I grandi carnivori Che cazzo Domanda è Cosa vogliamo dire Che nelle zone più ricche Frequentate Popolate da turisti Non c'è più tempo Del pascolo Allo stato brado Non lo è Perché ci sono Grandi carnivori Che potrebbero colpire Uccidendo qualche capo Per la propria Ma com'è scritto St'articolo Ragazzi No ma è veramente Difficile da leggere Grazie Da qualche capo Ma di chi sta parlando Scusate Capo di bestiame Però Capo di bestiame È normale Ah in quel senso Sì sì No ma è comunque Strano da leggere tutto È un po' scritto Del cazzo Però Non ho capito Comunque cosa c'entra È perché Credo È Che Nel senso sia Deve avere paura Di Dei carnivori Che ti mangiano Le bestie O Dei turisti Che vanno lì A rompere i coglioni Alle vacche Che ti mungono Le vacche A caso I turisti si attaccano Sono grandi e vaccinati Se vanno a disturbare I capi di bestiame Si prendono le incornate Sì però magari Gli rovinano Le mucche Grazie Ma perché sarebbe Del fatto che Appunto Dovresti mettere Nel recinto Ma poi Non gli togli la libertà E magari non vogliono Loro Perché parlano Di stato brado Quindi Eh non lo so Avrebbero delle leggi Stato brado Perché le Non ce l'ha Nel recinto Ma ce l'ha in giro Esatto Esatto Ma lui lo vuole Tenere così Ha detto Risolvi questa cosa Mettendola nel recinto Ma lui non vuole Quindi non Vabbè Usa Youtuber insegna Una scimmia Come giocare a Minecraft Vabbè L'ho fatto Prima di lui Tantissimo tempo fa Io Comunque Marco Quanta che giochi tu Io gioco Prima di voi Quindi non credo Ragazzi Quanta cosa Ti ho insegnato Niente Minecraft Penso zero Vabbè Marco Comunque Facessero la notizia Su di me Allora Continuiamo poi Squali cocainomani A largo della Florida All'arangialetta Questa Mi ricordo anch'io Però è del 22 luglio Neanche troppo indietro Saranno in ritardo Quelli che hanno fatto La notizia Guarda Lo scorso anno Ho beccato una famigliola In cui i genitori Erano dei titolazzati Che lasciavano che i figli Andassero a rompere le balle Ai cavalli E li lasciavano Mettersi dietro di loro A tiro di scalciata Spero non li abbiano colpito Eh va Lì proprio Sei proprio stupido Cioè lì Anche perché c'è gente Che è rimasta paralizzata Per un calcio di cavallo Altre cose del genere Se non peggio Per cui Danno da mangiare Al coccodrillo Ma si avvicinano troppo Quello che fa l'animale È surreale Mi hanno citofonato E vado ad aprire Cosa fa che è surreale? Fammi vedere Non c'è il video? C'è solo le foto? Ah eccolo qua Adesso lo guardo Ve lo descrivo ragazzi Sì un attimo Pausers Un attimo Ah gli dice Get up get up E lui sale su Tipo cagnolino Va su Si mette in piedi E gli dà il pollo Quindi che ha fatto E poi lo ha carezza Ma che storia Cioè praticamente Un po' come i cani Gli dà il pollo Gli dice get up get up Lui salta su Gli dà il pollo E poi lo accarezza Gli occhi degli occhietti Come cagnolino Ma che stupido Incredibile Incredibile Ma fammelo vedere Eh c'è il video sotto Dai 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 Stupido Umberto Allora Ma come c'è il cocco Che picco Penso che chiude proprio gli occhi Come Bellissimo Vabbè Poi Poi Aspetta Prima che mi dimentico Ho arrivato un'email Sul coso dei termos Penso che stia arrivando a tutti Un'email di google Che dice che se non usate l'account Da due anni Venne cancellato Quindi pure loro Iniziano Di occhio Vabbè L'account di google è difficile Google io lo uso abbastanza spesso Se non usate mai Cioè se non siete loggati Con niente Con google da due anni C'è il video che lo cancello La storia del cane Tabata Scappa di casa per due giorni E si fa trovare Alla stazione dei carabinieri Che storia Il cane di Davide Tabata Invece A me non va Non lo so Al supermercato di Fabriano Con i ghiaccioni Invernali I giacconi Che cazzo ho letto I ghiaccioni I ghiaccioni I ghiaccioni invernali Per forza L'area condizionata non c'entra Coppia denunciata per furta Ma perché devono fare sti titoli Fammi leggere La coppia infatti Aveva nascosto dentro gli abiti Che indossavano diversi prodotti Del negozio Sprovvisti di antitaccheggio Per un valore di diverse decine di euro Proprio stento Infatti Cioè Con dei 9 gradi 30 gradi Bah Vabbè E penso se Se li mettevano Nel perizoma Si vedeva Da telefono Da cose A vedere se Come faccio Link Quello lì Si che ho dato via Link E poi Simone Ruggiati Shock Da anni Vengono spruzzate Miscele Per non far piovere Selvaggio a Lucarelli Lei ha inallato E lui mi sa Per una volta Mi ha fatto ridere Selvaggio a Lucarelli Grazie Daci Grazie Daci Mi ha fatto ridere Per una volta Selvaggio a Lucarelli Incredibile Questa cosa Quindi Lo chef Simone Ero giacista Danni vengono spruzzate Micele Per non far piovere Ha detto lui C'è proprio il video Neanche la cellulare Me lo apro Non è possibile Sotto wifi Sì Mettiti la rete Ehm Ehm Vabbè Eh i fumi della cucina Eh vabbè Può succedere Magari si è confuso Dalla barca A 106 anni Il video Da milioni di click Beh si ha 106 anni Complimenti signor Pollice Neanche con le 4G Ma il bello che non riusciva neanche ad alzarsi Per fare il tuffo Ma ha fatto il tuffo Incredibile Poi c'è rimasto tra l'altro È affondato Sì credo che È secco Dopo c'è nelle notizie di Luke Mi sa Sì Sì Anziano I turisti sono ingrassati E pesano troppo Adesso sulla gondola Ci stanno al massimo in 5 Scoppia il caso a Venezia E c'è chi instilla il dubbio Solo una scusa Sì Per fare più corso Grazie al cazzo Ci sono una scusa Che vuol dire I turisti sono ingrassati Tutti i turisti Nel mondo intero Però se erano travati al pelo Cioè adesso un chilo in più C'è grazie al cazzo Che è una stronzata Esattamente 160 euro in più Già che si parla Di euro in più E non di Di altro Ti fa capire subito Come sono i gondolieri Sì è una scusa Ma non è che sono i gondolieri Ma è qualunque È l'essere umano Eh sì Lottatore di MMA Finge di salutare il suo avversario Ma è una trappola Lo mette KO In un secondo Sì allora È una bastardata Però nel regolamento Lo puoi fare Tant'è vero che Come dicono Come dicono anche gli arbitri Doresti proteggerti In ogni momento Dal momento in cui do il via Quindi È una bastardata Sei un bastardo Un infame Sì sì no Sei un infame Però si può fare Più che altro Se vuoi davvero misurarti Per vedere quanto sei bravo Col tuo avversario Se ci tieni a queste cose qua Non lo fa Sì sì no È chiaramente una bastardata Però ha ragione lui Perché dal momento in cui l'arbitro Dal via Infatti dicono Di proteggere in ogni momento Dal momento in cui dal via Perché Come è nato Come è nato Ma smettila Per me Io sono d'accordo Però purtroppo Non è così per tutti Quindi Così Però c'ha ragione Gli puoi dire niente Come la battuta bastarda Di tennis Non la conosco Vabbè un pochino anche No come è che funziona Un pochino anche come le Quella sui piedi Quella sul Vicino alle gambe Non so come funziona Mi ricordo qualche video Cosa Luke Guardi con la battuta da sotto Magari di tennis Che puoi farlo Eh bu Quella sotto mano Ok C'è anche Cioè come anche le finte Che fai nel basket Tipo per Rinviare la palla Ma nel basket Le cose del genere Sono più leggere Però sono quelle finte Un po' Stupide No Però lì è meno Da bastardo E le fai semplicemente Per distrarre l'avversario E robe del genere Però le fanno Nel basket Tiri la palla addosso Agli avversari Per fare Quella sì Ma quello non viene visto Come una bastardata Lì di solito ci ridi Qua proprio Cioè gli tiri un calcio in testa Sta sulle palle Si può ancora fare Nel basket Tipo nel Allora se lo fai Nella rimessa da fuori Tirare la palla Sulle caviglie Per farla ritornare fuori E riprendere tempo Lo fanno ancora Il fatto è che se lo fai Con un determinato approccio Magari ti possono dare Anche un tecnico Se magari lo fai sulle palle Che ne so No lo fai di solito Sui piedi Lo fai Quello magari Cioè ho visto Video anche recenti Di gente che ci prova A farlo Noi lo facevamo Ma Vabbè Tra ragazzi È diverso In NBA Magari c'è un altro tipo Di situazione Di etico Come sta il figlio di Lebron Si è ripreso poi? Si è ripreso subito dopo Perché hanno detto Che era uscito Dalla terapia intensiva Poi dopo era già Comunque Rischia Di perdere il volo E annuncia Allarme bomba Chaos A Pisa Ma così l'hai perso Comunque Non è No Lo prendi Ma lo parti ritardo Sì Vabbè Ha detto O tutti o nessuno Cioè Boh L'hanno arrestato Poi non l'ha mai più preso Sono d'accordo Sono d'accordo Non l'ha mai più preso Allarme C'è un sacco di gente Che è rimasta In stato vegetativo Dopo un calcio Dopo un pugno Quindi bisogna stare attenti Ma per quello Ti ho detto Scherzavo Sorcio È palesemente Una bastardata Non le dico sul serio Queste cose È chiaro che è una bastardata Quello che dicevo io Che purtroppo A livello di gara Gli devi dare la vittoria Comunque Perché l'arbitro Ha dato il via Ci vuoi far poco Purtroppo Negozio di riparazione All'ingresso Compare un cartello Che fa scappare i clienti A gambe elevate Aggiustiamo qualsiasi cosa Ma Ma Dove Ma Porta la porta C'è scritto qualcosa Bussate forte la porta Perché il campanello Non funziona Ah bestia E ridere Lol Lulul Jackie Chiao Vediamo Credo sia il mio nome Preferito di cinese Forse Jackie Chiao Eh perché Effettivamente ci sta Sta proprio Sotto effetto di metanfetamina Entra in un capannone E fa sesso con un montone Ma ha fatto pure la rima Sì Ma Beh sì Io so di una persona Che ha fatto sesso con un cane Quindi per carità Non che conosco Ma diciamo quasi Quasi conosco Ah ok Proprio Irle Gliel'ha messo Gliel'ha messo dentro Sì sì Ma Era una Una conoscente di un mio amico E infatti L'hanno Lo hanno A chi Non mi ricordo L'hanno denunciato a qualcuno Ma non mi ricordo come si chiama Lente Non so se ha qualche Sicuramente Ma è Malempa Sì perché Lempa te lo toglie Ma era un cane Tipo del Della sua famiglia Non mi ricordo come era la situazione Comunque l'hanno denunciato Cioè l'hanno L'hanno Come si dice Sì non denunciato Nel senso la denuncia alla polizia L'hanno Segnalato Ecco L'hanno segnalato Comunque costruiscono una macchina da Formula 1 Usando solo parte di un trattore E il risultato è surreale È fighissima ragazzi Ma va a 300 all'ora? No Non penso Va da più di 20 km orari Però Però è fighissima Il fatto è che è solo da tenere così Perché non puoi farci nulla Credo sia stato più un lavoro di hobbistica che altro Però è fighissima Si liudo credo Porca miseria È proprio bella Tanto è passato qui fuori È il video forse No oddio non so se c'è No c'è il video della gente che lo fa vedere lì all'esposizione Ma non Dell'esposizione Comunque Enrico Cura le piante A chi parte per le ferie Faccio il plant sitter 30 centesimi al giorno Centinaia di prenotazioni Ah minchia Ho trovato un nome Minchia 30 centesimi al giorno Non ti basta neanche però Per la benzina Per andarci a farlo Sì ma per ognuno Eh Eh Vabbè ma magari sono tutte vicine Se sono tutti vicini è una stoncata anche Però così non so quanto Perché se devi andare Sì se devi andare a piedi Che so Intorno lì No Lo fa in città Se le porta sul suo terrazzo di casa Quanto poi C'ha 400 piante Allora ci sta Ok Grazie Dato Grazie Dato Ci stanno 400 piante Eh beh magari c'è tutta una bella terrazzona Eh se ha centinaia di piante Vuol dire che si farà almeno un 50 euro al giorno No 120 euro al giorno Ci ha scritto Puttana Eh Sì poi dipende Qua sta tutto alle prenotazioni Chiaramente Grazie Leo Grazie Leo Sa che insetti Beh dipende dalle piante Che c'entrano gli insetti Sono delle piante che ti ritengono lontane gli insetti Sì dipende dalla pianta Io avevo la mia vicina di casa Che aveva tutto il balcone Pieno zeppo di piante Non c'era un insetto Perché probabilmente aveva delle piante Che c'erano via E lo so perché ci andavo Mi ricordo Perché una pianta Andava a giocare col suo nipote Effettivamente è la PS4 sul letto Sono i raccoglitori delle carte Il raccoglitore? Sono due raccoglitore Ma non hai messo niente Vabbè oggi li spacchiamo Oggi ragazzi Dopo questa live Liedvaro Nair Che controlla le carte che ha rubato Quelle scatole lini Sono tutte piene di carte Tutto tutto Sì sembra una PS4 Anche adesso che mi ha detto Che sono dei raccoglitori Sembra è vero Io la mia l'ho messa in solaio Lascia l'auto in strada Con tre finestrini abbassati Multata ma nessuna sorpresa E no Infatti non so perché hai fatto l'articolo Ti multa No Perché l'ha lasciata in strada Non perché L'ha lasciata in strada Ma secondo me Allora dipende Perché c'è anche la questione Dell'aria condizionata No no La multa fino a 444 euro Per l'aria condizionata La legge italiana prevedono che Chiunque lasci un'auto parcheggiata Non debba in alcun modo Favorire il furto O la manumissione Del suo veicolo Devi metterti in sicurezza fondamentalmente Se no da attacchi L'ho pagato da un multa di 29,40 euro Si si tratta Di un articolo Che la maggior parte Delle autorità ignora Che poi è qualcosa di terribile E' qualcosa di terribile Perché Non devo essere io Che devo essere Che favore No ma anche quella del furto E' veramente brutto Cioè E' proprio una cosa Cioè Se apre una porta L'ho può entrare In operazioni Probabilmente Per Sì per evitare Frui Sì quello sì È vero Stavore per Sì sì no ma ci sta Non ce l'ho mai pensato Poi UFO La testimonianza Al congresso USA Il governo Nasconderesti Alieni e astronavi Ecco Vabbè No credo sia Una cosa molto In realtà importante Perché è stato fatto Da un ex militare Non so di che reparto Credo un pilota Era L'avevo letto ieri Quindi Sì 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 Ha detto che A quanto pari In uno dei vari oggetti Non identificati Hanno trovato resti Non umani Tecnicamente Era sotto giuramento Quindi Poi menti Vai Era molto pesante Il problema Il problema È che è impossibile Credergli Eh però No Non perché Eh boh Non lo so Il problema è Anche una volta Era molto importante Poteva dirle Ste cose Cioè anche lì Magari ha detto La verità Ma adesso va Ma se Senti lo sotto giuramento Come fai Per esempio Lui ha anche detto Che Il governo È in possesso Di alcuni mezzi alieni Però il governo Ha detto che non è vero Quindi bisogna anche Vedere lì Perché poi ti possono dire Anche no Non è vero Quindi non Come funziona C'è tutte le robe Che sono uscite fuori Così Sono sempre stati Ex militari Non è che Non è che L'ha giurato giusto Perché c'è voglia di giurarlo È che È una cosa fatta Dal comitato Di sicurezza nazionale Poi gli hanno chiesto Poi gli hanno chiesto Ha visto qualcuno Dei corpi E lui ha detto Non è qualcosa A cui ho assistito Io stesso Ma in che modo Dovrebbe Quindi lui ha detto Io non li ho visti In prima persona Ma so che ce li hanno Magari colleghi O Non so Un po' del cazzo Ma Partendo dalle basi Perché il governo Dovrebbe nascondere Gli alieni Per evitare Problemi di No Problemi di ordine pubblico Per l'ordine pubblico Innanzitutto Perché E poi per la tecnologia Sanno scoperti Per la tecnologia Incredibile Per la tecnologia Ci sta Per non farlo Esatto Quello ci sta Per l'ordine pubblico Anche perché Tanti potrebbero Prendersi dal panico Magari O altre cose Perché dal principio È stata fatta Questa cosa Ma sai cosa Adesso c'è anche Una cultura diversa Degli alieni Ci hanno fatto film A volte sono stati visti Come figure Di paura E quindi Dall'inizio È stata Gestita così La cosa Perché smentirebbero Le religioni In primo luogo No beh Ma non è vero No non è vero Perché Dio ha creato tutto No no Addirittura Parlando anche Con tanti Che ci credono Eccetera Se tu Guardi la Bibbia La Bibbia non dice Che non ci sono Altre specie Non ne parla Possono essere Tranquillamente Magari alcune religioni Non è l'unica religione No no Infatti stavo per dire Magari ci sono Alcune religioni Per carità Però tante altre Tante altre direbbero Oh L'ha fatto Dio Quindi amiamolo Probabilmente La frase standard Se dall'inizio Non fossero Cioè Non fossero stati nascosti È lo stesso discorso Che puoi fare Con le persone di colore Se Loro ci sono sempre state Però come vedi Le discriminazioni Continuano a esserci Perché Vengono È un problema Però sai Loro non fanno paura È un problema Sempre iniziale A volte sì A volte sì A volte sì A volte sì Però nel senso Gli alieni Ci hanno fatto proprio Tanti film C'è proprio una cultura Di terrore Tra virgolette Poi c'è anche Quelli bravi Tipo ET Però c'è una cultura Un po' diversa Per gli alieni Magari il pubblico La gente Andrebbe incontro Magari anche a Ma togliendo la corsa Agli armamenti Che è sicuramente Il punto principale Quello lì È sicuramente La prima cosa Non credo Contro gli alieni Guarda già È più contro gli umani Stessi Che contro gli alieni Sì Il fatto è che Magari Se veramente Hanno preso Delle altre forme di vita L'hanno torturata Eccetera Comunque non credo C'è una bella notizia Da far trapelare Che magari hanno Adesso No no Sto pensando io Dico Metti che l'hanno Vivi sezionati L'hanno aperti L'hanno uccisi L'hanno fatto Credo sia comunque Una bella notizia E non ci faccia comunque Una bella figura Il governo Credo Beh allora Poi dipende Perché se l'hanno trovato I morti Però ti posso dire L'abbiamo trovato morto A parte quello Ma diciamo che L'avrebbero fatto A prescindere qualunque governo Una cosa del genere Ti trovi un alieno Figurati se non lo Analizzi Dal più dettaglio possibile Lo fanno anche con gli umani Esatto Cioè sarebbe stupido Non farlo In realtà Però mi fa sempre Questa cosa va in contrasto Diretto col fatto Che tutti i segnali Che noi abbiamo mandato Non hanno mai ricevuto Nessun Non c'è una voglia Di rispondere Scusa Non sono obbligati A rispondere Non sono obbligati È strano Magari non sanno Come rispondere Se sono esseri Che sono arrivati Sulla nostra terra È perché hanno Un certo tipo di cui Immagino No Poi non è detto Non è detto Magari sono Magari è proprio Cioè perché tu non puoi Pensarla come Specie Simile a noi Perché è molto complicato Esatto Potrebbero essere Dei polpi Senza fonda Magari possono essere Degli umanoidi Però sono Completamente Stupidi Ma hanno sviluppato L'intelligenza Solo per fare Delle navicelle Aliene Che vanno Nel spazio Ho capito C'è una bella Chiacchierata Di questo tipo Tra Zosparco E Roberto Mercadini Andatevela a cercare Su Youtube Ragazzi Su questa cosa Parlano esattamente Di questa cosa Delle forme Di possibili alieni Eccetera Sono Zosparco Perché non è detto Non è detto che la loro Intelligenza Sia Ma magari Semplicemente comunicano Telepaticamente Quindi non hanno Orecchie per sentire Non hanno magari Abitudine Ma ha scritto Può essere Micillo Magari Loro hanno già Effettivamente risposto Noi non siamo riusciti A captare Può essere Eh ma anche quello Può essere No Oppure come diceva Ricky Oppure come diceva Ricky Magari come diceva Ricky Non sono come Moro Che risponde a messaggi di spam Magari loro hanno Rapputato Cazzo Un altro pianeta Che ci chiama E spam Ma magari Anche loro Continuano a mandarci Messaggi Ma sono messaggi Che per noi Sono il terremoto Dice cazzo C'è il terremoto Per dire no Per dire Cioè è una cosa Che noi recepiamo Come In qualcosa Della natura Che sta facendo La natura Magari il surriscaldamento Globale È il loro modo Per comunicare Cioè E noi Magari l'hanno creato Loro per preparare Poi l'invasione Magari loro Amano più il caldo Anche il covid No però per far capire Che C'è Il nostro Mandare Dei messaggi Nello spazio Cioè Magari loro Li recepiscono Come Un Cioè Magari le stelle Decadenti Sono messaggi Degli alieni Cioè capisci Sono tutte robe Che noi Le recepiamo Come La natura Che fa il suo corso Invece se qualcuno Dice oh mi sto cagando Addosso Sto facendo la cacca Guardami Invece Non so Perché Non puoi pensare A un alieno Come Un essere Grazie Rick Intelligente A 360 gradi Ma magari è Intelligente Solo da un Ma sì Da un punto C'è Leo che dice Credo che se fossero Così intelligenti Da raggiungersi Da così lontano Si sarebbero fatti vedere Ma questo è il punto Del discorso Che magari si sono fatti vedere Ma non te lo dicono Ma magari non vogliono Farsi vedere Semplicemente sono qua Solo a guardare A osservare No ma anche questi che Se è vero che poi Li hanno presi O li hanno Hanno trovato dei resti Cioè Non è che non te lo stanno Dicendo loro Non te lo stanno dicendo Quelli del governo Magari loro te lo volevano Anche dire Ma comunque se ce li hanno Quelli del governo Non Magari ne arriveranno Altri un giorno Lo so Cioè Magari hanno viaggiato Per dieci anni Questi qua che sono arrivati Che ne sai Ci sono talmente Tante domande Sì esatto No beh Sto pensando Con una tecnologia incredibile A meno che C'è una velocità Più conosce della luce Magari hanno Sì esatto Delle tecnologie incredibili Che non abbiamo noi Per carità di Dio Io sto proprio Cioè A questo punto Puoi veramente pensare La qualunque Cioè Vabbè Comunque Sicuramente una notizia Che anche ieri Ma Ha dato parecchio interesse Però vedremo Vedremo Abbiamo l'ultima notizia Vector non mette più gli stop Ormai Stop Al Basso Dentro Sì c'è Travis Scott Travis Scott Fan Sold out La scritta Che ha scritto La strada Fandi Travis Scott Viene a casa Per pagare il viaggio Per il concerto In Egitto E il concerto Viene cancellato God Scusami ma Come pensi Che sia una bella idea Questa Magari non è Assoluto di caso Eh O sei veramente ricco Da poter giocare Però scusa Ma non aveva senso Vendere la casa Perché ti vendi la casa E non te lo compri Visto che sei ricco Allora Non ha senso Questa cosa O per quanto costava Il bietto di tre biscotti Che aveva venduto la casa Ma non ha senso I biscotti ragazzi Ha venduto la casa Questa notizia Non so se ha tanto senso Basta con quelle caramelle Marco Ma sei un drogato Ne mangio due Alla mattina e basta Drogato Ma vergognati Guarda quanto mi sta durando Sto sacchetto Sono 8000 dentro In questo sacchetto C'è stato il concerto Di The Weekend Ieri mi pare Mi pare di sì In Italia Dove era A Milano erano Direi Bologno Non so se Che c'erano No mi sa A Milano C'erano sì No non è una dv Imaneschina San Siro E The Weekend All'Ippodromo Sì L'Ippodromo La Maura Di Milano Dovevano farci Lo stato Del Milano Ma poi mi sa Mariano È droga È troppo tardi Andrea Tanto mi fa ridere Che sei Andrea Del 1987 L'altro era Del 1988 Allora Passiamo Però Allora Com'era la sigla Del videogioco Questa Eccoci qua ragazzi Nel videogioco Momento Andiamo a leggere Le notizie Di oggi C'è una che mi ha fatto Molto ridere Per non piangere Un pochino In realtà E ho letto Ieri Adesso ve la recupero Ecco qua Come sapete Ieri è uscito Ratchet & Clank Su PC Gioco First Party Sony Una gran bella Esclusiva Per Playstation 5 Che girava Solo grazie All'SSD L'SSD Magico Della Playstation 5 E' verificato Su Steam Deck Anche senza SSD Anche installandolo Nell'SSD Nella MicroSD E per girare Su Steam Deck Chiaramente Non girerà 60fps Gera 30 Però comunque Gira Che ha Steam Deck Che ha Un hardware Peggiore Tra virgolette Sulla carta Di una Playstation 4 Capite Quanto Sony Sia ridicola Ultimamente Sta roba E' veramente Imbarazzante Naturalmente Naturalmente Essendo un gioco Sony Che esce su PC Non gira bene Ragazzi Come tutti gli altri Non posso farli aspettare Il gioco Dal PC Esce oggi Però dovete aspettare Quei 2-3 mesi Che lo sistemi No eh Prima Prima di giocarlo Per favore Dai Allora A quanto pare Invece Un'altra notizia Nel progetto di console Si torna su Switch 2 Perché a quanto pare Ci sono stati Delle A quanto pare Un produttore cinese Specializzato in System on chip In SOC Ovvero Pixart Ha indicato Nel suo recente report Finanziario Del fine trimestre Che una nuova console Da parte una compagnia Giapponese Di cui non sono fornitori Verrà lanciata Nella prima parte Del 2024 E tu dirai Vabbè Notizia generica Magari è un'altra cosa Il fatto è che A quanto pare A quanto pare Nintendo Avrebbe fatto di tutto Per nascondere Queste cose Si Ha fatto un ordine Protettivo Per nascondere Le informazioni Trappelate Quindi No Sol Non facciamo Il giochetto Del Ormai bisogna Pregare Dio Che un gioco Esca bene Su PC Ormai Giocare su PC È il modo Praticamente più safe Per giocare bene Un videogioco Visto che È più probabile Che giri di merda Su console E su PC Ma su PC Puoi farci qualcosa Esatto Su console No Vedi Coso Quello non puoi farci Un cazzo Da entrambe le parti Coso Star Wars L'ultimo Che purtroppo Ha avuto problemi grossi Sia su PC Che su console Ma non l'avevano poi sistemato Con le patch No Ancora Non l'hanno sistemato Il problema è che su PC Almeno puoi farci qualcosa Ormai Nessuno è più buono A fare i videogiochi Ragazzi Nessuno di quelli Grossi Perché poi Quelli piccoli Più o meno Quelli piccoli Non hanno neanche il controllo A volte Però Quelli piccoli Spesso Fanno dei giochi Con La consapevolezza Di doverlo far Di doverlo far girare Su macchine Meno potenti E quindi Che funzionano Bene Cioè fanno giochi Più semplici Li fanno per Girare più persone Quindi Le persone che hanno La media delle persone Che hanno un hardware Migliore di quello Che usano loro Il fatto che Dovrebbe funzionare Per la Playstation E per l'Xbox Questa cosa Visto che hai Un hardware E devi farlo girare lì E infatti Remnant 2 Esatto Son E Remnant 2 Gira a 720p Il nuovo FIFA Il nuovo FIFA Gira a 720p No io ci gioco a 720p Ah A 720p Perché sei un strunzo Però Sì 720p A 60fps In performance mode Altrimenti C'ha tre modalità Quella 720p 60fps Quella quality Che non raggiunge Il 2K È 1200p Tipo 30fps E poi Quella di mezzo Che è 768p O 792p Non mi ricordo Tipo FPS variabili Quindi Statera tutto Che non so perché esiste Però Vabbè Ma non 1024x768 Quello che succede Sì 768 Vabbè Quindi Goti Non penso Abbiamo mai avuto L'esperanza Di essere Goti Remnant 2 Però ieri Ho rifinito Il primo Ed è Proprio bello Non vedo l'ora Di iniziare Il secondo Dopo E comunque Questo era un piccolo Riassuntino Su Ah comunque Il fatto che Fa ridere Ma Fa anche Molto piangere Perché è una situazione Ridicola Che non vorrei Continuasse Per troppo Dicevi Marco No dicevo che C'è un ragazzo Nei commenti Che ha scritto Apposito la notizia Della Nintendo Dice Se dovesse realmente Uscire all'inizio 2024 Aspettiamoci la conferenza Intorno a settembre Ottobre Che in realtà Mi pare L'abbiano detto Che a settembre Ci sono Mi pare Un leak Ha detto Che sarebbe stata Una conferenza Di Nintendo Poi Loro hanno detto Che non vogliono Far uscire La console Questo me lo ricordo Dissero che In caso di nuova console Comunque nel 2023 Non sarebbe uscita Quindi sarebbe comunque Un annuncio Incuriosisce di più Più che la nuova console E con che gioco Perché davvero A sto punto Mario Odyssey 2 Potrebbe essere La bomba E appunto Dico magari Secondo me Un Mario Odyssey 2 Su nuova console Potrebbe essere Perché se vuoi dire Vendite è il gioco Che potrebbe essere La prima Switch Al lancio Anche lì C'aveva un gioco Grosso E poi però C'aveva dei giochini Cos'era One, two, switch E' uscito subito Mi pare di sì Cioè c'aveva quei giochini Alla one, two, switch Di contorno Che accompagnavano Il gioco No vedremo Vedremo Settembre E' uscita una recensione Di Double Dragon Gaiden Che non sapevo Fosse uscito E a me piacciono Sti giochini Ne hanno parlato Un me Nel senso Quello non so Questo Hanno dato Sette e mezzo Gli hanno dato E nei contro Hanno messo Il jungle Banalizza alcune fasi Di gioco Gli scenari Non danno sempre Il massimo Anzi Cooperativa solo Il locale Con qualche Per me è già una merda Queste cose che hanno detto Queste tre Cose per me è già una merda Per un Double Dragon Poi hanno messo nei pro Gameplay solido Corposo E con diverse idee interessanti Struttura molto ben gestita Tanta rigiocabilità Carina La reinterpretazione Di personaggi In pixel art Boh Per me Già che mi hanno detto Che non posso giocarci Con un amico Che gli scenari Fanno cacare Che alcune Alcune meccaniche Banalizzano il gioco Cioè Per me è già Un gioco Non so Un gioco arcade Così Sì Ok Bella la pixel art Sono un fan Io della pixel art Però Boh Vabbè Tanto Star Wars E Outlaws Sarà lungo Ma non troppo Dice Ubisoft Ma l'ho letta ieri Questo Ok Sono andato troppo In giù Molto Tanto ragazzi Lo avevo detto Tempo fa Che i giochi funzionano Anche se fanno cacare O comunque non sono Proprio al top Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto E ha quota 12 milioni Di copie vendute Sono veramente Tante ragazzi Sono più di persona Quindi insomma C'ha un nome Anche un po' più importante Sì Ma poi c'è da dire Che Credo l'abbiano messo Veramente anche a 5-10 euro Ormai sto gioco No ma a parte che i vecchi Cioè i giochi di Naruto Sono sempre stati bellini Quelli vecchi Sì sì Mi sono sempre divertito A parte Guarda Quello che avevo fatto con Gatto Dove c'è la famosa gag Della 12 ore Che era una 24 ore Cioè quello non mi Era una bella idea Il fatto di farti Il tuo personaggio Nel villaggio della folla Ma Della folla Della foglia Della foglia Ma ha mandato Completamente in bacca Per me Peccato Perché c'erano anche le battaglie 4 contro 4 Era carino C'erano la mappa Con gli eventi Però purtroppo Era stato veramente Uno spreco Per il resto Sì fanno giochi carini Ma poi ti ripeto L'hanno venduto anche a 5-10 euro Quindi ci sta Che abbia venduto 12 milioni di copie In tutto questo tempo Persona Non lo vendono A 10 euro Comunque ragazzi Per chi Volesse farsi Un pc nuovo Un assemblato Si parla di componenti I prezzi Sono tornati Veramente A Pre-pandemia Ormai Sono giusti Sì A parte Le schede madri E gli alimentatori Però il resto Dei componenti Sono tornati Veramente Ai prezzi Giusti Quindi E' il momento Buono Per farsi Un pc Costruirsi Un pc E comprarsi I componenti Adesso Quindi In caso Se volete Vi rimetto Anche il Dove era Questo Eccolo qua I prezzi Della gpu Sono bassissimi Sì Se volete Lì ci sono I I nostri consigliati E ci sono anche Delle configurazioni PC Quella Ce n'è una Da mille euro Circa Due da mille euro Perché ce n'è una Con scheda video AMD Una con scheda video Nvidia Con mille euro Vi fate Un pc Per il 1080p Della madonna Ad oggi Bene bene Sono voluti Solo tre anni Dai Ci sono stati Anche dei problemi Belli grossi Tra pandemia Cripto Mining E Tutte le Cazzate Del mondo Qualcosa Su amazon Sportario Si sorcio Se parti da lì Salvatevela Come un page Di amazon Tanto cambia Se potete salvarvi Quel negozietto lì Voi potete andare lì Poi cliccate amazon E girate Dove vi pare Dovrebbe funzionare Come Come refer Bino Perché me l'hanno detto Anche altri Ieri Il fatto che vi siete presi bene su pikmin Grazie a me Ma era le mie live Mi fa piacerissimo Perché è un gioco che Non Pensavo non interessasse Allora La 40 e 60 È una cagata Eh vabbè Ognuno ha le sue Moro Un'altra Che cazzo è successo Bestia Cosa è successo Un incendio Un incidente grave Le ambulanze Per un incendio Non credo Un incidente grave Eh beh dipende Sono feriti Eh ma Passate anche i pompieri No comunque La 40 e 60 È una cagata È una scheda video Di merda Per Perché non è quello Che doveva essere Però Se vi fate Il pc nuovo Non ha senso Prendervi Una serie 30 Vi prendete La 40 e 60 Se avete già Una 30 e 60 Una 30 e 60 Ti Non ha senso Passare alla 40 e 60 Quello Assolutamente No Perché cambiano Proprio l'architettura Della scheda video Quindi magari È più probabile Che vengano No ma più che altro A un certo punto Non supportino più Le 3000 No più che altro Consuma un pochino Di meno E ha E ha E ha Tecnologie nuove Come il DLSS 3 E robe del genere Però Anche perché Costano uguali Cioè la 40 e 60 Costa Adesso Si trova Intorno di 300 euro La 30 e 60 Più o meno La trovi sempre A 300 euro O 20 euro di meno Per 20 euro di meno Non te la prendi Prendi quella La nuova generazione Sì Il bello Delle serie 40 Che Consumano meno Però Comunque dicevo Un momento buono Per prendersi Un pc Adesso Se volete In caso Se volete Chiedere consigli È tutto Su discord C'è la stanza Dove 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 Richiesta consigli Dove Giochi di Sì Richiesta consigli Dove la gente Spesso chiede Consigli Sui componenti Su build Di pc O roba del genere Che sono altre cose Sì E mi si risponde Lì Una 7900 XT o XTX Ho capito Figa È una Figa È una Cioè Mi stai paragonando 30-60 Con una scheda video High-end È un pochino Diversa La situazione Sì Poi se non Ti frega un cazzo Delle reti Delle ss O roba del genere Ci sono quelle NVIDIA Però Una 6950 XT Che È la controparte Della 3090 Più o meno Poi A 630 euro Si trovano Sì Dipende sempre L'utilizzo Che ne fate Comunque Se Scegliere AMD O NVIDIA Comunque C'erano altre Notizie Direi Di Se c'è una Luke Esatto Se ne hai altre Allora C'era Life by You Che era quel Gestionale Tipo The Sims Della Paradox Si Della Paradox Si Della Paradox È stato rimandato Doveva uscire il 12 settembre Invece uscirà il 5 marzo 2024 Minchia Perché doveva uscire in Early Access Tra l'altro a settembre Non so se magari hanno ripensato alla cosa E lo faranno uscire non in Early Access Dubito Non lo so Però il fatto è che sembrava molto acerbo Dai video che hanno fatto vedere Quindi ci sta Che lo rimandi Stimidici ancora Giocca in Access Anticipato Si ma Cioè anche se lo facessero uscire Ancora in Access Anticipato a marzo Magari lo fanno uscire In Access Anticipato molto più solido Di quello che si è visto Sì sicuramente Poi Like a Dragon Guide Non avrà Non avrà versione retail In occidente Ok Niente scatolato Sì Hanno rimandato anche la stagione 10 Di Sea of Thieves Di due mesi Doveva uscire Non so Uscire qualche giorno L'hanno rimandato di due mesi Mi sono dato i dati invece No Perché hanno detto Che stanno lavorando A delle nuove Nuovi sistemi Da utilizzare nel gioco Che però Sono difficili da realizzare Quindi hanno bisogno Di più tempo Per inserirli nel mondo Nuove Nuove modi di Nuove interazioni Nuove cose così Poi Hanno dato la data di Castlevania Nocturne Che è l'anime di Netflix Sì Ed è il 28 settembre Quando esce Ok Hanno presentato Hanno fatto vedere un video Di gameplay di Project L Che è il picchiaduro Della Riot Ed è un picchiaduro Due contro due Gratuito sarà Hanno svelato la data di Lego 2K Goal Secondo Amazon Che sarà il 19 settembre 2023 Quindi tra i mesi Ok Poi Project Red Cioè CD Project Red Ha detto Ha annunciato che Licenzierà O comunque Congelerà i contratti Di circa 100 dipendenti Non so perché Perché al momento Non hanno bisogno Di dipendenti A quanto pare E l'ultima Sono uscite le prime recensioni Della serie Twisted Metal Si è visto Treddy la faceva cagare Sì E invece hanno dato Cioè IGN ha dato 8 Dicendo che Anche se molto spesso Ci sono troppe Tante battute Twisted Metal Esce comunque Miracolosamente Ad essere un mix Di commedia Violenza E Argomenti seri Ma perché È veramente Comunque Una Cazzata Cioè Il gioco È talmente base Che A parte che Cioè come gli è venuto In mente di fare La serie tv La serie tv Ci puoi fare letteralmente Il cazzo che ti pare Di conseguenza Quindi Ci può stare Può essere leggerina Ma comunque funzionare Sì E c'è L'ultimo È L'Igo Chukeri Drive Flex è una merda A quanto pare Perché È È un free to play Non free to play Nel senso che Per Sbloccare Le cose Devi Grindare Come in un free to play Per Sbloccare pezzi E robe del genere Ed è Terrificante Come Dalle recensioni Che ho letto E sto fischio Del merda Sarà qualche No Non è un Mezzo di trasporto Troppo Sibilante Non so se è un Tensile Qualcosa fuori E vabbè Luke Ti passo Il pallone Con questo peto Oggi È scritto fondatrice Ma non di cosa Perché Siamo fondatrice Dall'ordine Di Tardetale Invece Qua è scritto fondatrice Va bene Santa Giustina Vergine Martire Santa Natalia Compagni Martire a Cordova Santi Clemente Di Ocrida Gorazdo Nahum Saba Angelario Apostoli Della Bulgaria San Desiderato Di Besançon Vescovo Sant'Ecclesio Vescovo San Fronimio Di Mez Vescovo San Galattorio Di Lescar Vescovo Sant'Orso Abate E l'ultimo È San Pantaleone Che è il protettore Di Medici Balie E Nutrici Quest'oggi Nel 1890 Vincent Van Gogh Si spara al petto Nel tentativo di suicidarsi Non muore però Perché la pallottola Viene deviata da una costola E Viene visitato Da un dottore A cui appunto Gli confesso Il tentativo di suicidio E gli dice Che nel caso Fosse riuscito a salvarsi Ci avrebbe riprovato Non gli serve riprovarci però Perché muore due giorni dopo A causa di un'infettura Un'infezione generata La ferita Sono nati oggi Nel 1937 Detto Mariano Compositore e arrangiatore Fattore d'immensità Però mi piaceva il nome Nel 1938 Gary Gygax Autore di giochi di roll Come Dungeons and Dragons Vabbè minchia Grazie a Cucinotta L'atrice del postino E di 007 Il mondo Non basta E nel 1982 Clemente Russo Pugile Due volte oro Ai mondiali Di pugilato Il proverbio del 27 luglio È La mala erba Non muore mai Cioè che quando pensi Di aver scongiato Un pericolo In realtà Il pericolo Si ripresenta In modo diverso Sì Beh Questa qua Però dipende Cioè Un problema Un po' occasionale Diciamo Cioè dipende Da cosa Qual è l'argomento Sono occasionali Magari pensavi Di esserti liberato Di una persona Ah beh Quello Invece Te ne conosci un'altra Che è peggio Marco Va bene Ah Scacco matto È la giornata nazionale Dell'hot dog Con chili La giornata nazionale Dello scotch Nel senso del distillato Il distillato Sì Prodotto Di cartoleria La giornata Dell'apprezzamento Della cornamusa In Scozia La giornata Dei filetti Di pollo impanati Buono Sono più conosciuti Come chicken finger La giornata nazionale Degli stagisti E la giornata Del camminare Sui trampoli Ma bene Oggi tutti sui trampoli Allora ragazzi E con questa Che ho tra l'altro Di là Poi li metto Sì Io ce li ho qui Non li vedete Perché Di qua Non prende Allora Sì Forse il momento Io ancora C'ho la riga sotto Non mi dite niente Ragazzi La riga sotto Del capo Qui viola Sotto Devo sistemare La webcam E Dicevo Dammi la linea Il meteo Ma Diciamo che Non c'è molto Da dire adesso Perché A posto Meteo finito No È che Ormai C'è da quello che vedo Per i prossimi giorni Non dovrebbe esserci nulla A parte piovere Sulle mie teste Anche se volevo Essere in vacanza Sì sì Aspetta Non piove in vacanza Martedì Forse un pochino Di brutto Al nord A parte che io Qua ad esempio Non vedo nulla Di pioggia Cesenati Eh io l'ho visto Il meteo.it Non so Ma non guardare quello Cesenati Io vedo Bello Fino almeno A venerdì 4 Piove solo Sabato 5 Domenica 6 Che a me Invece Su meteo.it Dice che c'è sole Tutto il giorno Con 32 grandi Sabato e domenica Quindi qui vai a credere Che non va guardato Fino in fondo là Devi guardare al massimo 3-4 giorni Comunque Diciamo che Adesso è il momento Del capo Avogato 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 Posso rimetterla un attimo? Metti Avogato 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 Alla fine Della prima parte Nella prima parte C'è un momento Dove ti sgonfi Voi senti bene Fa Si fa Ma non so perché senti non mi ricordo in qual era che mi aveva fatto sempre Valerio con la mia voce c'era una solo di tromba e c'era la mia voce anche in mezzo che faceva la tromba quindi un cazzi casino vabbè prego Marco intanto vado a riempire la borraccia che se no mi secco allora siamo tornati ragazzi con Francesco Totti e Noemi Bocchi, amore tra le onde a Sabaudia, la coppia paparazzata durante un bagno al tramonto tra coccole dolci e giochi spensierati quindi siamo tornati con Totti e Noemi Bocchi poi abbiamo la risoluzione del dubbio di questi giorni ovvero incinta Federica Pellegrini a quanto pare sì quindi questa è una buona notizia la cattiva notizia è che gli hanno ciulato il record dei 200 purtroppo che aveva dal 2009 tra l'altro mi pare proprio a Roma lo fece peccato peccato veramente peccato perché era veramente uno dei ancora dei record più importanti italiani ed è stato superato da una ragazza giovanissima tra l'altro australiana e tra l'altro nella notizia diciamo nel video in cui fa vedere la pancia dice we'll take it back no? come per dire ci penserà mio figlio o mia figlia però giusto per non dargli molte responsabilità andiamo avanti con Belè è tornata anche questa ragazzi Belè Rodriguez in silenzio social per il suo clan Elio è solo un amico questo lo dico lo dice il clan ragazzi baciamo le mani baciamo le mani andiamo avanti Jennifer Lopez balla sui tavoli e mostra le sue curve sexy in bikini alla festa di compleanno la pop star e attrice ha condiviso alcuni scatti di festeggiamenti della sua villa Los Angeles nella sua villa Los Angeles sui social sì c'è lei che balla sul tavolo una bellissima donna come al solito torniamo con la rubrica Elisabetta Gregoraci e Battiti Live che a questo punto credo sia una partner perché non capisco perché dirmi gli outfit di tutte le sere questa volta ci fa sapere che ha solo mezzo reggiseno per la quarta puntata per orizzontale o per verticale c'è una setta sì una no cioè da una parte ha il vestito lungo dall'altra c'è il reggiseno il costume ma che fastidio cioè deve essere veramente una cosa scomoda ma sai chi compie 50 anni Moro oggi ah metà reggiseno nel senso che metà se ne vede sì mi interessa ragazzi no dimmi dimmi no non ti interessa che quanti anni ma non sei neanche di chi una volta che dovevi chiedere chi non mi hai chiesto chi mi hai detto quali e no me lo dovevi dire tu chi masciaferri la panterona del grande fratello dai se guardavi la gialappa la conosci per forza masciaferri 50 anni fa sì sesco ragazzi quella che diceva uccelli venite a meno esatto poi l'ha detto anche malgioglio più o meno l'ha modificata modificata un po' ha detto cazzoni venitemi in culo ha detto ragazzi un secondo che devo rivedere la principessa io ormai non so più di cosa parla ormai fa tutti questi side joke di disco io non capisco una sega se non dici mononocchio non si capisce vecchia effettivamente ah mononocchio adesso ho ricollegato perché me l'avevi spiegato ieri dalla bestemmia ma non c'era bisogno di spiegarla quella comunque è perché c'è una bestemmia dentro quindi andare a fare il revoccione è per dire vado a bestemmiare ok vabbè non l'avrei capito se non me l'aveste spiegato voi comunque Sofitta Ricconi al mare con mamma Katia Smutniak il figlio la figlia di Pietro Taricone Katia Smutniak basta volevano farci vedere che era in costume poi abbiamo Maria De Filippi la prima estate sola con il figlio Gabriele questa notizia è uscita identica al periodo in cui è morto Costanzo solo che con altre foto vabbè poi abbiamo una rubrica ragazzi importantissima di coppia il sesso in vacanza è passionale avventuroso e insolito lontani dallo stress e coinvolti in esperienze nuove si è più disposti a lasciarsi andare a regalarsi più momenti di intimità di intimità anche inusuali quindi cose anche un po' usè particolari uno quantità o qualità ma scusate ragazzi quanti qualità scusami un attimo mi è arrivato il messaggio perché ieri sono andato per fare sesso sono andato ad attivare la prepagata nuova in banca ieri mattina quando me l'ha data mi ha detto adesso ti arriva un messaggio devi rispondergli con il codice che hai descritto e poi ti rimanda un sms con il pin della carta e il codice web ok va bene mi è arrivato il messaggino con il pin e il codice web adesso mi è arrivato un messaggio cara bcc tasca l'sms con pin e codice web è stato cancellato se non l'hai memorizzato rivolgi alla tua bcc ma scusa non me l'avevano detto che si cancellava si ce l'ha scritto a me non ce l'ha scritto a me l'altra cosa ce l'ha scritto no no a me ce l'ha scritto occhio che verrà cancellato entro tot ma pezzi di merda a parte che non non davo neanche era possibile come fai a cancellarmi no no c'era proprio non è whatsapp o telegram che puoi cancellare il messaggio anche per non pensavo si potesse fare gli sms ah no è giustamente me l'hanno cancellato e non ce l'hai più ma che palle non me lo ricordo aspetta devo segnarmelo adesso un attimo vado a segnarmi il codice a me l'ha detto proprio anche la tizza ha detto segnatelo che entro 24 ore sennò si cancello me lo ricordo vado a segnarlo un attimo aspetta tocca ancora a Mark si devo leggere io no appunto ci diceva hanno fatto un sondaggio per il sesso dove lo vuole dove preferiscono fare sesso le persone cosa ho detto io invece no no ho capito forse tipo come sai i soliti consigli no allora ci sono anche i consigli poi del sito ma c'è questo questo quesito che hanno fatto alla gente del mare e e tra questo quesito hanno chiesto dove preferiscono fare sesso ma non ho capito come funziona questo sondaggio perché dice che il 90% preferisce il classicone in camera d'albergo poi dice il 47% in spiaggia il 38% quante percentuali ci sono se il 90% era in camera perché c'è il 47% il 38% in ogni caso lo preferiscono fare in camera da letto dopo me lo segno nel password manager non ce l'ho però e poi consigliano di flirtare ragazzi mi raccomando flirtate molto con il vostro partner poi abbiamo i due momenti a Marcord il primo è che è anche un buon compleanno a Peppino Di Capri la sua sfida contro i cavalli marci nel 98 non voglio indagare ragazzi non voglio indagare e poi abbiamo Alberto Camerini con i suoi maccheroni elettronici a Popcorn era una canzone sarà più non Luke tu Luke quello nella chat che è quel ragazzo dell'IT se non cambia nome maledetto no cavalli marci non è cavalli marci sicuro avercele segnate fisicamente da qualche parte le password che in un beh nel settore se mi rubano in casa voglio trovarle loro era un gruppo di comici genovese è sicuro anche averle segnate ma io me le ricordo le password io no perché c'erano tutte diverse io non esatto non di tutto perché è impossibile non ho la memoria per 18 password diverse beh dipende perché per le robe non importanti che non me ne frega un cazzo che me le rubano no quello anch'io però siccome però le altre me le ricordo ma quelle che mi segno cioè tipo il pin o le robe della carta delle robe del genere ce le ho in certe parti della casa anche perché io Luca e Paolo li ho visti con i cugini merda perché è una rotura di coglioni mica perché peraltro poi anche lì devo avere il password per il password me devo accedere beh lì te ne basta ricordare una sì sì dopo c'è l'impronta di girare il telefono esatto certo ma non è che sono contro il password manager è che il fatto tanto non non mi serve me le ricordo me le me l'assegno giusto perché se un giorno proprio me ne scordo mi alzo vado a vedere nel documento fisico cartaceo e me la ricordo poi ma di solito il pin della carta me lo ricordo anche perché il pin della carta se poi sono a far la spesa al supermercato e devo un attimo che controllo il mio password manager ci metto sei ore ci metto e non lo usi dopo mi serve lì dipende quanto usi di frequentemente una cosa io ad esempio la password che so di facebook robe del genere che logo e poi per 4 anni non lo logo più non me la ricordo mai non me la ricordo semplicemente perché metto cose diverse ma quello della carta identità tipo c'ho la carta identità cartacea io io non ce l'ho più la carta quindi posso no io ce l'ho digitale io ce l'ho digitale l'ho fatto apposta per andare in giappone eh ma la CIA ha il pin che cazzo è ah quella elettronica eh non ce l'ho io quella elettronica quindi allora intanto quando ti scaletta la faranno ormai è obbligatorio guarda lo speravo anche quando l'ho rifatta visto che l'ho rifatta di recente vabbè ma in caso puoi andare a farla rifare cosa dicevo sì lo so è che non c'ho voglia di andarsi non darci la mattina io l'ho fatto tanto una volta era solo se la perdevi una volta era solo se la perdevi o era completamente distrutta adesso da quello che ho capito la puoi fare comunque perché è proprio una cosa utile quindi te la fanno il passaggio non sei una grande mente mister wolf avevi finito Marco eh sì allora io ci ho portato le 11 e 15 capisci solo un giorno della settimana per quella cosa lì tanto devi prenotare vabbè che a me però per prenotare devi andare un giorno dopo no io l'ho fatto online eeeh online no può darsi sì ormai è tutto online non credo abbia un sito il mio comune e no io al massimo penso su quello della provincia io ho un'idea su cosa possa essere il guest day game poi eh perché ho un'idea su cosa possa essere dalla foto fai vedere Moro faccio vedere perché ho un'idea poi magari non è mi ha ricordato uno spellforce allora mi sembra anche a me un'isometrica mi ha ricordato uno spellforce non so se l'ultimo o due però non so mi ha ricordato quando zoomavi tipo ma può essere anche un valdur's gate esatto valdur's gate 2 anche sacred anche sacred potrebbe essere anche patofexile può essere patofexile mi sembra una grafica un po' diversa non lo so non patofexile esatto pillar's of eternity pillar's of eternity sì pillar's of eternity potrebbe essere non lo so metti valdur's gate 2 vai metto valdur's gate 2 oddio ostia aspetta cosi cosa cacchio un po' troppo un po' troppo forse questo valdur's gate 2 no è un po' troppo questo qui ragazzi è così crudo beh può essere sempre valdur's gate o pillars non ricordo cadaveri così buttati per terra col sangue non so non può essere che non gli hanno dato il voto quindi non può essere né pillars né valdur's cos'è ragazzi age of mythology no com'è che si chiamava potrebbe essere un age of mythology perché ce l'ha ho visto quella scalinata molto vecchia magari o titan quest potrebbe essere un titan quest è storico però titan quest non è così crudo neanch'io me lo ricordo cioè non mi ricordo che rimanessero i cadaveri così scoppiati ma questi non sono cadaveri rimasti sono lì di sfondo ci sono già non age of mythology si si plan escape plan escape è così la grafica non è molto più vecchio non che questo sia penso sia perché non è non è told for metacritic è not rated no no è not rated quindi l'hanno cagato in 3 magari anche può essere un gioco piccolino non so ma ragazzi ho aperto un attimo la pagina di steam ma double dragon quello che vi ho detto prima costa 23 euro ma siamo scemi chi è che lo compra 23 euro un gioco che durerà 4 ore e gli hanno parlato solo male qualcuno lo riconosce adesso sono degli evocatori giganti dietro se è roba mezzo a horror sicuramente non no non è horror è un gdr questo fantasy hanno scritto plan escape un sacco di volte però plan escape plan escape torment perché and i swing daily in unsaid edition no non è comunque ah no qui è molto vecchio è un'avventura punte click punte click no allora vedi che è mezzo horror allora ma no che non è un horror è punte click con le facce che volano con i morti ma beh è fantasy ma di che è beh sono evocatori giganti roba del genere size of nume nero torment eh ma se è un punte click è agente 610 dice tobias ma cazzo ma c'è 610 no non esiste non è no non è il gioco dei lunes ragazzi non credo agente 610 è un gioco che ha fatto parliamo di giochi nella serie giochi brutti quindi non credo sia quello io non so era una battuta ah ok e non lo conosco quindi non l'ho compreso in realtà si chiama polda però non so se sia quello ah no era serio non stavo scherzando allora si chiama polda non esiste polda per curiosità mi vedi se c'è il gioco dei lunes cioè non perché dovrebbe essere però voglio vedere solo se l'hanno messo nell'elenco no no peccato la roba tutta italiana non lo so ragazzi io non ho proprio idea cioè o spariamo a caso schippiamo o andiamo avanti non so proprio cosa sia io mai visto in vita mia sta roba è che magari un gioco di indiana gioco su qualcosa del genere però mi sono troppo potrebbe magari ce l'hanno c'è l'avventura grafica credo il personaggio sia questo qui quindi non credo schippo cioè se il personaggio è questo qua anche qui è un inserviente pitfall no pitfall come pitfall beyond the jungle non è pitfall dreamforge entertainment del 98 ma l'ultima non dovrebbe essere una gifo ah perché si vabbè è un video tra virgolette ma cazzo si ma questo qua dai non può essere sanitarium eh ma non può essere non un horror o qualcosa del genere com'è possibile beh si vedendolo adesso cioè non è fantasy fammi cercare ha tematiche più horror sanitarium thriller psicologico dicono si è comunque un si non è horror però mettono anche un bizzarro manicomio stile medievale quindi vabbè si è un thriller horror fantasy a tematiche horror comunque perché il manicomio le robe sanitarium mai giocato sembra pure figo si tu sei un un pazzo del manicomio ma vedendo l'ultima cosa c'hai la tuta dell'infermiere tipo delle cose tipo l'infermiere del manicomio sei credo o sei non lo so dovrebbe essere anche un gioco che fa carim segnato per il moro by night o stia comunque un avventura a punta e clic diviso in livello capitoli ognuno dei quali dotato del proprio stile atmosfera il giocatore ogni capitolo deve trovare indizi di salvare puzzle interagire con altri personaggi per raggiungere una sfida finale in cui il giocatore deve raggiungere un percorso evitando gli ostacoli se il giocatore non ci riesce il percorso venga spesso inizia il percorso grazie dingo sono 13 capitoli grazie dingo grazie a che mi scivolo ciao belli grazie mille grazie di cuore belli comunque un thriller psicologico che conta la storia di un uomo chiamato Max Laufland colpito d'amnesia in seguito un incendio totale i suoi tentativi di sviluppare i dettagli con il ricordo di un bizzaro manicometro stile medievale la ricerca della verità tra le mura di manicometro adesso flashback per affrontare Max fantasmi si guarda la storia va bene comunque silenzio perché ti sei cacata Ramond fatemi sentire provo a trovarmi fa vedere Marco dove sei prova a trovarmi incredibile impressionante invisibile questa volta per davvero Marco sei seduto? era Skyrim era si si sente la musica eh minchia quale Skyrim eh no quello era special per forza no invece ero io moro non era la versione per forza quella ultra mega ma magari nel titolo aveva messo Skyrim e basta e Skyrim e basta ti ricordi che mi ero messo si si era il nascondimento che ti eri messo fammela vedere questa che fanculo incredibile impressionante invisibile questa volta per davvero guardalo sei seduto? no ah non sei tu ma guarda te questo mi aveva veramente fregato come un coglione qui eh invece ero io moro no ma bellissimo sono stato bellissimo l'ho proprio cavato questa è stata veramente bellissima no è bello che tu rispondi anche ma scusa è uguale a te allora no ma perché intendevo era un uguale a te come fosse molto simile sarebbe utile se una volta che lo indovinsi riparte da capo dall'inizio la clip direttamente si chissà come sta Pasqui ragazzi è un po' che non mette le sue notizie chissà che casino c'ha quel ragazzo non scrive anche noi lo abbracciamo forte e non vediamo l'ora che ritorni comunque posso chiudere si chiudiamo il rassegnone ho sbagliato pulsante ragazzi faccio quest'altro eh no ne